Ciao, oggi vi parlo di due giochi di carte molto simili fra di loro, entrambi prevedono di collezionare dei set entrambi hanno questa grafica super carina in stile giapponese ed entrambi sono editi da Studio Supernova vi parlo quindi di Gasha, gioco di Jason Levine per 2-6 giocatori e una durata di circa 20 minuti e di Super Kawaii Pets, gioco di William Cavalieri per 1-4 giocatori e una durata di circa 20 minuti io sono Teo e queste sono Recensioni Minute Iniziamo quindi a vedere come si gioca Super Kawaii Pets nel proprio turno un giocatore può pescare due carte a scelta fra gli aiuti oppure gli animali potrà scegliere quelle a faccia in su oppure quelle dalla cima dei mazzetti non potrà mai pescare le carte luogo ad esempio potrei decidere di prendere questa carta che attiva il fatto che posso pescare una carta cuoricino e quindi prenderei questa e poi come seconda carta ad esempio prendere questa carta medico termino così il turno, rimpiazzo le carte che sono state prese e tocca al giocatore successivo nel corso della partita poi sempre all'interno del proprio turno è possibile gratuitamente rendere felice ad esempio gli animaletti questo ad esempio ha bisogno di due cuoricini, li scarto e quindi lui diventa istantaneamente felice assegnandomi poi a fine partita questi punti vittoria potrei anche decidere di spendere questo medico per rendere felice questo gattino in questo modo ora posso scegliere di prendere i luoghi questo luogo ad esempio chiede un roditore, ce l'ho e quindi gli assegno il luogo poi con un gattino e un cane posso anche decidere di prendere questa poltrona anche in questo caso al termine del mio turno semplicemente si rimpiazzeranno due nuovi luoghi per il giocatore successivo si continua a giocare così fino a quando un giocatore non avrà di fronte a sé 10 carte orizzontali a quel punto si termina il giro e si contano i punti vittoria neanche da dire chi ne ha di più in quel momento è il vincitore come avete visto la spinta più grossa all'interno di questo gioco è far diventare allegri i vostri animaletti da un lato sono sempre triste e dall'altro lato sono allegri peraltro il lato allegro c'è anche una parte un po' sbrilucicosa in rilievo che lo rende un po' più allegro ancora come avete visto è molto semplice giocare, prendere le carte e giocarle è molto intuitivo anche da questo punto di vista ma ci sono delle piccole gombo, alcune carte quando vengono collezionate oppure raccolte vi permettono di prendere altre carte e quindi avete anche quel pensiero di decidere se prendere qualcosa che vi serve in quel preciso momento oppure se prendere un qualcos'altro solo per attivare la combo in modo da essere più forti in un tempo successivo altro punto interessante del gioco è che al suo interno sono previste ad esempio diverse razze di cani ognuna è spiegata nel libretto delle istruzioni, ci sono poi i gatti, i roditori e infine i bonus diciamo quelli che non rientrano in nessuna di queste categorie vedete ad esempio un pesce pagliaccio oppure un pony shetland o una testugine greca che sono dei jolly, potrete utilizzarli al posto di qualsiasi altro per collezionare le carte luogo passiamo quindi a vedere gasha durante il proprio turno un giocatore ha due possibili opzioni la prima è prelevare due carte gasha tra i vari mazzetti sul retro delle carte è riportato cosa potrebbe esserci sul davanti uno di questi tre simboli, ad esempio su questa carta c'è effettivamente il robot e poi ad esempio decido di prendere quest'altra carta vediamo tra gattino e ravanello o il gattino le aggiunge alla propria mano e tocca al giocatore successivo la seconda possibilità è scartare un set di carte dalla propria mano per collezionare obiettivi in questo caso scartando un sushi, una bambolina e un gattino otterrò questa carta le carte vengono messe qua e questa mi fornirà istantaneamente punti vittoria per il fine partita e poi in questo specifico caso avrò anche mezzo biglietto rosso questo perché? perché se nel corso della partita riesco a ottenere un altro mezzo biglietto rosso oppure uno di quelli arcobaleno che sono dei jolly completo il biglietto e posso pescare uno di questi gettoncini a caso ciascuno di questi gettoni potrebbe darmi bonus istantanei come giocare un altro turno oppure qualcosa da giocare più avanti nel corso della partita si continua a giocare così fino a quando non ci sono più segnalini oppure semplicemente il mazzo dei premi è vuoto o ancora nel raro caso in cui non si riescano a ripristinare i quattro mazzetti di gasha a quel punto si sommano i punti vittoria e neanche da dire che ne ha di più è il vincitore in questo caso vedete invece come la spinta all'interno del gioco sia quella dell'azzardo vi cerca di ricreare la sensazione di quelle macchinette appunto le gasha che ci sono in giappone in cui inserite la moneta girate la manovella e non sapete bene cosa vi scenderà sapete qual è il mix di cose che è al suo interno ma non avrete la precisione di quello che accade e questo viene riportato in queste carte gasha che quindi prenderete cercherete di prendere qualcosa perché sul retro riporta più o meno quello che vi servirà ma non è detto che siate abbastanza fortunati c'è poi la parte di completare gli obiettivi che diventa anche in qualche modo interattiva perché dovrete scegliere se prendere tanti punti oppure meno punti ma con il mezzo biglietto da completare sappiate che questi mezzi biglietti sono molto golosi perché i gettoncini sono molto interessanti ad esempio ce n'è uno che vi dà due gasha di qualsiasi colore oppure come quello che avete visto vi dà un turno addizionale e quindi diciamo che quando uscirà magari uno dei biglietti arcobaleno dovrete fare in fretta a completarlo però perché tutti i giocatori cercheranno di accapararselo prima possibile entrambi i titoli comunque stanno tranquillamente all'interno dei 20 minuti previsti ed entrambi permettono di chiacchierare tranquillamente attorno al tavolo in gasha avrete un atteggiamento un po' più spensierato diciamo che avrete questa parte dell'azzardo e quindi vi permetterà anche un po' di prendere in giro i vostri compagni se non riusciranno a pescare la carta giusta oppure voi stessi comincerete ad essere depressi se magari cercavate il ravanello e per la quarta volta non avete trovato ravanello dall'altro lato invece i kawaii pets ci saranno dei momenti in cui dovrete un attimo fare due conti capire quanto manca al fine partita per cercare di ottimizzare la vostra mano e come vi ho detto l'idea di attivare alcune piccole combo non è da sottovalutare detto questo vi invito sicuramente a una partita a questi due giochi e non mi resta che salutarvi con un ciao e alla prossima visto che me lo state per chiedervi vi confesso che ho preferito di più il super kawaii pets ma banalmente per un discorso di materiali come vi ho fatto vedere sul retro delle carte animali ci sono questi puntini luminosi ed è bello fare le faccine dell'animale triste poi dire oh sei diventato allegro e anche su tutte le altre carte c'è sempre un qualcosa che sbrillucica quindi niente la mia scelta è ricaduta solo su un effetto pancia di questo tipo fatemi sapere invece voi quale dei due state puntando quale dei due vi ha convinto di più e non dimenticate di scriverlo qua nei miei commenti non dimenticate inoltre di iscrivervi a tutti i miei canali social e accendete proprio la campanella qua su youtube così rimanete aggiornati su tutto e ricordate che potete sostenere il progetto recensioni minute utilizzando i tre link qua sotto per prendere ad esempio magliette come quella che sto indossando e sostenere contestualmente il canale ciao ne